La denuncia della questione a bianto è partita dal centro-sinistra Peravella, su segnalazione da come abbiamo sentito dal consigliere Stefano Gentri dei Cittadini. Noi abbiamo proprio qua il leader del centro-sinistra Peravella, il consigliere comunale a cui chiediamo a Palmieri. Chi è venuta questa denuncia e cosa state facendo per fare in modo che questo amianto venga tolto da qua? Nella giornata di giovedì dei cittadini mi hanno segnalato che c'era questo amianto già da diversi anni, che loro avevano in diverse occasioni sollecitato l'amministrazione comunale ad interessarsi del problema, però siccome non avevano avuto risposte continuavano a sollecitare anche altri consiglieri comunali, e anche i consiglieri comunali di minoranza in questo caso per cercare di intercedere. Quindi noi ci siamo sentiti il dovere di intervenire. Noi del centro-sinistra insieme con gli altri amici dell'opposizione, con Stefano Gentile, ci sarà la massima collaborazione. Su questa cosa siamo usciti noi come centro-sinistra perché è stata una questione di rapidità, che sia pure nel mese di agosto, però condividiamo convintamente, siamo tutti uniti, siamo sostanzialmente un gruppo unito, fortunatamente, perché stando insieme riusciamo con molta fatica ad opporci a questa amministrazione, che è un'amministrazione che tranne il fumo negli occhi, di qualche operazione come quella del teatro, che è costata ai cittadini di Avella diverse centinaia di migliaia di euro, poi praticamente è un'amministrazione disastrosa. Disastrosa perché per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, questa è l'ennesima segnalazione che noi facciamo sul territorio, ma noi abbiamo un acquedotto che è fatto di Eternit, abbiamo lo stabile della Ex Misericordia che sta in piazza San Pietro, che il tetto è di Eternit, per non parlare proprio di tutto il territorio, che comunque non è controllato in maniera ottimale, quindi ci sono diversi discariche, ci sono diversamente anche sul territorio. E il sindaco, per dare l'esempio di come si tratta l'ambiente, abbatte dieci pini che avevano 50 anni, solo perché davano fastidio a qualche cittadino, consigliere comunale, che abitavano nelle vicinanze. Quindi un modo estremamente grave di dare l'esempio di come si comporta con l'ambiente. Quindi un altro tema importante è la questione delle tasse, che si sono triplicate da quando c'è Biancardi. E, diciamo così, rispetto a tutto ciò, i servizi sono peggiorati, la macchina amministrativa è rimasta in panne come era prima dell'avvento di Biancardi, e tutto ciò che riguarda la gestione della macchina amministrativa, in primo luogo la gestione delle gare di appalto, lasciano tantissime perplessità anche nell'assegnazione di incarichi, nell'assunzione di contratti con cooperative e società che collaborano con il comune. Quindi alcuni giovani vengono assunti da queste società. Noi non abbiamo nessun problema al fatto che dei giovani vengano assunti e che possano lavorare, perché è un diritto di tutti lavorare, ma noi vorremmo capire i meccanismi con cui si arriva a determinate situazioni, perché è giusto che i cittadini sappiano, in quanto questa giostra, che si chiama macchina amministrativa, viene pagata con i soldi dei cittadini. Quindi, ritornando al problema dell'amianto, il sindaco si difende in maniera scomposta. Lui avrebbe dovuto ammettere il suo errore, chiedere scusa e risolvere il problema. Invece dice che noi siamo dei millantatori che inventiamo cosa. La discarica di amianto è qui, la possono vedere tutti i cittadini. I cittadini che abitano nei dintorni ne sono a conoscenza. Se l'area è sequestrata, il sindaco deve intervenire presso gli organi preposti e farsi autorizzare alla messa in sicurezza. La messa in sicurezza non significa costruire una centrale nucleare, la messa in sicurezza significa comprare un telone, posizionarlo sul materiale e aspettare che le autorità giudiziarie procedano. Perché questo materiale può causare dei danni veramente gravi alla salute dei cittadini. Non è nemmeno giusto che persone che vengono qui al fusale o che molto spesso non hanno nemmeno i soldi per potersi permettere una vacanza fuori da Avella, vengono qui per respirare un po' di aria buona, per bere un po' di acqua potabile e magari con un rischio di ammalarsi. Questo non è per strumentalizzare, per l'amor di Dio. Però esistono delle documentazioni scientifiche al riguardo... Questo è.